La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo L'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno e ben trovati con il nostro appuntamento con l'informazione di Uno News andiamo a sfogliare le pagine dei quotidiani prima pagina del mattino nazionale la fotonotizia che racconta del dramma in Francia per l'incendio divampato a Notre Dame di Parigi infatti è la cattedrale in fiamme vediamo il titolo Notre Dame un maxi incendio distrugge la cattedrale di Parigi l'impotenza dei pompieri vietato usare i Canadair sotto accuse il cantiere incustodito e il flop del sistema antincendio lo shock del mondo ed è questo proprio il titolo principale ma anche l'argomento ampiamente trattato nelle pagine di primo piano vediamo gli articoli correlati le idee l'apocalisse della storia d'Europa uno spettacolo agghiacciante assistere in diretta tv all'incendio di Notre Dame seguire impotenti le devastazioni delle fiamme che dal tetto hanno iniziato a lambire lentamente la guglia e poi racconto quei tesori che nessuno ci restituirà per l'analisi ci spostiamo di fondo regioni rosse le vere cause della caduta di un sistema posti di lavoro in cambio di voti il clientelismo è un fenomeno politico vecchio come la parola che lo descrive clients già nell'antica Roma erano quei cittadini che per la loro protezione economica e giuridica si affidavano a un patrono nel passato remoto quest'ultimo era il membro di una famiglia potente delle democrazie contemporanee sono i partiti andiamo a centropagina dagli esteri la Libia migranti sfida di Sarrai 800.000 verso l'Italia governo indagato per la Sea-Watch e intanto l'inchiesta miti infranti la Svezia paradiso dei furbetti del reddito di Stato per le europee la Lega al Sud punta sul rettore di Salerno il carroccio sceglie la società civile la Lega per le europee al Sud punta anche sulla società civile per assottigliare la presenza di politici in lista in questo quadro tra i candidati dovrebbe esserci il rettore dell'Università di Salerno Aurelio Tommasetti il cui mandato scade proprio alla vigilia delle europee e poi l'intervista per Forza Italia a Carfagna Totti vuole demolire Forza Italia ma le responsabilità non possono pesare solo su Berlusconi andiamo avanti di taglio basso parliamo di calcio di Europa League il Napoli affronterà l'Arsenal nella sfida di ritorno per recuperare il 2-0 dell'andata e vediamo per il mattino l'ultima spiaggia azzurra cari giocatori contro l'Arsenal tirate fuori i tricchi e ballacche nei box in alto invece inchiesta della RFI appalti e clan la vacanza da VIP appositano pagata al manager e poi il caso Napoli cade a pezzi crolla un freggio ferito un giovane turista e poi l'inchiesta del mattino mafie dimenticate nell'intervista a Gratteri di Laga Landrangheta è sbarcata anche in Sicilia questa è la prima pagina del mattino nazionale quindi questi sono i principali argomenti che approfondiremo subito dopo aver invece visto quali sono gli altri titoli delle altre prime pagine dei quotidiani partendo dal mattino di Salerno vediamo quindi quali sono gli argomenti principali per la provincia salernitana si apre con l'inchiesta droga la pax mafiosa dei clan da nemici ad alleati per gestire lo spaccio dell'intera provincia sono 38 gli arresti cocaina nelle sorprese per gli ovetti asci sciaffiumi l'asse con i narcos gli eredi del clan Defeo e Pecoraro storicamente contrapposti tra loro in passato anche in modo cruento negli ultimi anni avevano creato un accordo molto stretto sul traffico e lo spaccio di droga andiamo a Casalvelino sigilli alla villa del marito del sindaco abusi nel cuore del parco del Cilento il primo cittadino comprata così e poi i trasporti Pasqua in città senza autobus corse solo per la costiera Pasqua senza bus in tutta la provincia di Salerno ad eccezione dei collegamenti per la costiera e la fotografia del trasporto pubblico locale per domenica prossima andiamo avanti di spalla la politica e le scelte Tommasetti Pasquino i due rettori divisi dalla sfida europea c'è tempo fino a domani alle 20 per presentare le liste e le candidature per le elezioni europee operazioni chiuse per tutti i partiti e poi le amministrative Capaccio assedio ad Alfieri un tris di alleati per Vosa andiamo in alto la tragedia assiste allo schianto dell'auto dei ragazzini stroncata da malore un dramma dopo la morte del 17enne cinque feriti gravi l'adolescente precipitato ci vorrà ancora del tempo per ricostruire la dinamica che ha portato al tragico incidente verificatosi sul raccordo autostradale Salerno Avellino in cui domenica sera ha perso la vita il 17enne di Fisciano Mario Landi a causa del quale si contano anche cinque feriti uno dei quali versa ancora in condizioni critiche lo scandalo Salerno Avellino quei 123 milioni nella palude della burocrazia è un faldone da 123 milioni di euro quello che continua a giacere nei cassetti della burocrazia che ogni giorno mette a rischio l'incolumità dei tanti automobilisti che percorrono quella strada e che come è successo due volte solo nell'ultima settimana perdono addirittura la vita nei box in alto invece per la cultura la musica il Martucci apre Ravello e porta arte ed etica a cava poi per la poesia invece Iorio al liceo Tasso farò ascoltare la voce di Gatto ci spostiamo ora di taglio basso la salernitana la Rechi semi-deserto le casse piangono con il Cittadella 896 spettatori paganti flop come con il Venezia per il Social City Instagram Stories gli sportivi al primo posto mentre per il premio Civitas la lezione del procuratore nazionale antimafia Cafiero De Rao giovani via dalla legalità queste le parole del procuratore antimafia al premio questa è la prima pagina del mattino di Salerno ancora prime pagine andiamo sulla città vediamo il titolo di apertura il patto d'affari per la droga 38 arresti quindi si parla dell'inchiesta che ha portato ieri all'arresto di 38 persone di cui 30 in custodia per una custodia cautelare in carcere la misura di custodia cautelare in carcere vediamo l'analisi in questo titolo di apertura gli storici nemici dei clan De Feo e Pecora Rorenna alleati nel nome dello spaccio così gestivano le piazze della Piana allarme nelle frazioni alte della città capoluogo l'assedio criminale dei pusher a Matierno cambiamo argomento nella fotonotizia il caso Scafati monito di Derao la spada di latta dei commissari e poi a Fisciano via il concorsone in migliaia per pochi posti l'importante è tentare per la cronaca tragedia sulla Salerno Avellino il raccordo killer fa altri due morti a Eboli ancora incidenti strada pericolosa giallo sugli espropri e poi ancora Capaccio Pestum museo Grand Tour passiccio in mostra di spalla la politica elezioni e candidati grillini salernitani contro Rousseau sistema sotto accusa nell'intervista parla Carmela Rescigno voglio la sovranità della nostra Italia e poi ancora l'intervista Raimondo Pasquino la mia esperienza in aiuto dei giovani nel box in alto invece la storia maturità annullata la laurea è a rischio e poi ancora il mediano dentista Perpetuini cambia di taglio basso invece Madonna delle galline il comune snobba Monsignore a Pagani per la festa tornano i toselli bocciati da giudice il comune di Pagani non blocca i toselli e disubbidisce al monito che da anni porta avanti Monsignor Giuseppe giudice vescovo della diocesi di Nocera inferiore Sarno sulla festa della Madonna delle galline massima attenzione sullo fronte sicurezza ma le manifestazioni popolari saranno rispettate dall'amministrazione guidata dal sindaco Bottone e poi la nomina il no di Cascio al pontefice Salerno resta senza vescovo questa è la prima pagina di la città chiudiamo con le prime pagine con le cronache vediamo invece quali sono i principali titoli per le cronache che apre anche in questo caso con l'inchiesta della DDA droga maxi retata questo è il titolo da Salerno nei Picentini fino a Bellizzi Battipaglia e Cava sgominato il clan Defeo Pecoraro 37 arresti a Ponte Cagnano la piazza più ricca 60.000 euro alla settimana trovate anche armi ancora di taglio alto invece l'incidente ciao Mario salutaci il siberiano la morte di Mario Landi 17 anni di Fisciano studente del Trani e tifoso Granata feriti anche altri 5 ragazzi grave un quindicenne di Baronissi morta per paura Rosa Maiellaro andiamo avanti centropagina Salerno fonditori in 14 a processo Barbato Pellegrino e altri 13 imputati di bancarotta anche assoluzioni tra cui Raimo nell'intervista parla Edmondo Cidielli pronto a candidarmi alla regione ancora Scafati docente indagato per terrorismo sempre per le elezioni vediamo Pagani in questo caso quindi di elezioni amministrative De Pascale via a Scafati 5 Stelle in campo con Sarconio e sono questi i titoli principali riportati sulle prime pagine dei quotidiani ora andiamo ad approfondire i temi di carattere nazionale in particolare andiamo sul mattino nazionale dove come abbiamo visto si parla ampiamente del caso dell'incendio divampato a Notre Dame nella cattedrale di Parigi immagini che nella serata di ieri hanno invaso anche i nostri televisori un colpo al cuore della cristianità ritenuto da molti e vediamo infatti il titolo un rogo devasta non devasta Notre Dame Macron la ricostruiremo distruzione di uno dei simboli della Francia incendio partito da una delle torri crollano tetto e guglia centrale il presidente apriamo una sottoscrizione internazionale sotto accusa i lavori di ristrutturazione esultano gli jadisti in poche ore la cattedrale di Notre Dame è stata distrutta dal fuoco che ha aggredito un capolavoro gotico con quasi nove secoli di storia il cuore della Francia dell'Europa dell'umanità comincia a bruciare alle ore 18 e 50 e il fumo grigio che si alza sul cielo di Parigi si perderà nella notte il rosso delle fiamme attorno alle 21 costruisce una visione irreale con lo scheletro della cattedrale che campeggia nel buio e vediamo infatti qui le immagini e vediamo sotto anche le tante persone ferme impietrite davanti a questo spettacolo davvero surreale i pompieri vediamo struttura salva missione speciale nell'edificio per recuperare le opere le opere d'arte e poi la sirena durante la messa abbiamo pensato un attentato due ragazzi di bacoli nella cattedrale i momenti più drammatici abbandonati nel terrore totale e nella serata di ieri poi la comunità francese si è riunita per pregare davanti proprio a queste immagini davvero surreali che insomma hanno visto la cattedrale nove secoli di storia abbiamo visto bruciare e andiamo avanti perché ora parte l'inchiesta per capire quali sono state le cause scatenanti di questo incendio andiamo quindi sulla pagina successiva innanzitutto vediamo dalle immagini la sequenza del crollo della guglia che era un simbolo proprio di Notre Dame vediamo qui la guglia e poi le fiamme quando cominciano ad arrivare proprio sulla guglia e poi il distacco e quando poi ormai è caduta la guglia simbolo viene giù dopo un'ora di fiamme alte le immagini della guglia crollate in diretta tv hanno inondato i social e tutti esprimono solidarietà alla Francia Notre Dame cattedrale di Parigi capolavoro gotico e patrimonio dell'umanità non c'è più la sua guglia uno dei simboli della capitale francese è crollata dopo essere stata divorata in poco più di un'ora dalle fiamme e veniamo proprio il giallo del cantiere incustodito e il flop del sistema antincendio inchiesta sulle cause del rogo sotto accusa la mancanza di controlli nell'area dei lavori polemica sul mancato utilizzo dei canaderri il caso delle scale dei pompieri troppo corte chiudiamo chiudiamo questa pagina e chiudiamo l'argomento Notre Dame fiamme della cattedrale che comunque sul mattino troverete insomma ampio spazio dedicato proprio a questo tema andiamo avanti parliamo dell'altro tema che ha tenuto di strettissima attualità e che ha tenuto banco nella giornata di ieri la guerra in Libia vediamo che si è parlato di un numero di un possibile numero di profughi di circa 800 mila pronti peraltro 800 mila persone pronte peraltro ad arrivare in Italia vediamo il titolo 800 mila pronti a sbarcare in Italia pressing di Sarrai Altani e Mettinga Conte e Moavero chiedono più fermezza contro Aftar ma Roma per avere una pace e duratura cerca un exit strategy per il generale dubbi degli 007 cifra non credibile potrebbero arrivare poche migliaia di persone l'ONU un vero un vero golpe e di taglio basso restiamo in tema la minaccia se Tripoli salta via libera dall'Ovest e dall'Africa sub-sahariana il governo controlla i migranti sulle coste il generale a sud Roma nella morsa e rischia una nuova ondata di sbarchi i miliziani finora hanno controllato i trafficanti ma il patto può saltare già in atto le strategie chiudiamo questa pagina andiamo avanti e parliamo ora invece dell'intervista vediamo la pagina dedicata all'intervista sul caso criminalità vediamo il titolo parla Nicola Gratteri l'Andrangheta di Laga e sbarca anche in Sicilia il procuratore di Catanzaro Drine a capo del mercato globale della coca pochi pentiti e un controllo rigido dei gruppi che gestiscono i traffici locali al nord molti non si fanno domande di fronte ai soldi oggi affari guidati da colletti bianchi senza sparare un colpo questo alcune delle parti dell'intervista al procuratore di Catanzaro andiamo ora di taglio basso braccia e gambe spezzate per 500 euro truffate le assicurazioni la banda inscenava incidenti e procurava false fratture a persone reclutate nei quartieri poveri di Palermo 38 fermi più la frattura risultava scomposta più grande sarebbe stato il risarcimento per la rottura delle braccia la banda pagava alle vittime 500 euro per le gambe 1000 per entrambi 1500 euro chiudiamo questa pagina e andiamo ora sulle pagine di economia parliamo dell'economia del sud con l'analisi della Svimex vediamo Svimex falsa partenza per il 34% al sud l'analisi sul DEF assai limitata la sperimentazione parziale incerto e riequilibrio territoriale degli investimenti pubblici modesta la spinta del reddito di cittadinanza PIL a meno 0,06% pericolose per il meridione flat tax e autonomia differenziata anche una beffa nel monitoraggio 2019 della territorialità si verifica un fondo destinato ai comuni che partirà nel 2021 e ancora statali servono 4 miliardi per il rinnovo dei contratti nel DEF la previsione delle risorse aggiuntive per i prossimi tre anni la manovra dovrà trovare i fondi andiamo infine di taglio basso Parmalat a siti mega risarcimento 431 milioni cash o il 15% della società la Cassazione ha messo fine al contenzioso avviato in usa e condannato l'azienda emiliana e con la pagina di economia ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria torneremo tra pochissimo con il resto dei nostri quotidiani restate con noi bentornati alla seconda parte della nostra rassegna stampa andiamo sulle pagine interne del mattino di Salerno vediamo quali sono i principali meglio approfondiamo alcuni dei principali titoli partendo dall'inchiesta della DDA di Salerno che ha portato all'arresto di 37 persone 30 custodia per 30 custodia cautelare in carcere vediamo business droga la pax mafiosa dei clan nemici 38 arresti gli inquirenti patto di mutuo soccorso tra la banda guidata da Vito Defeo e gli eredi dei Pecoraro gli eredi dei clan Defeo e Pecoraro storicamente contrapposti tra loro in passato anche in modo cruento negli ultimi anni avevano creato un accordo molto stretto spaccio tra Salerno La Piana e i Picentini 60 mila euro in sette giorni su una sola piazza le percentuali per i rifornimenti le indagini dei carabinieri e polizie avviate nel 2017 hanno permesso di acquisire decisivi elementi probatori a carico delle persone arrestate ancora la cronaca cocaina la sorpresa nell'ovetto e gli affari con i narcotrafficanti il questore Ficarra ritornavano rifornivano scusate l'intera provincia il colonnello Neosi il sistema colpito al livello superiore i garage servivano agli indagati per nascondere e stoccare la droga non a caso in uno dei controlli effettuati dei carabinieri nel corso delle indagini i dossi di cocaina furono rinvenute negli involucri in plastica dove vengono custodite le sorprese degli ovetti e ancora stalking dieci anni dopo la norma e le storie chiudiamo questa pagina restiamo sul mattino di Salerno andiamo avanti e parliamo delle prossime elezioni europee vediamo chi sono i candidati per il mattino vediamo Tommasetti Pasquino i rettori separati dalle sfide europee questo il titolo l'attuale numero uno dell'Ateneo verso la candidatura con la Lega il predecessore sceglie più Europa vicino a Salvini anche Lettieri Junior c'è tempo fino a domani alle 20 per presentare le liste dell'Unione Europea operazioni praticamente chiuse per tutti i partiti le incognite e gli ultimi nodi da sciogliere riguardano proprio il partito che in testa i sondaggi Salvini che sarà capolista in tutte le circoscrizioni per ora ha incassato il sicconvinto del 52enne Tommasetti desideroso di candidarsi dopo due mandati alla guida dell'Università di Salerno docente di Economia aziendale Tommasetti il primo rettore in Italia che scende nel lagone elettorale con la Lega la strategia del Ministro dell'Interno nelle liste molta società civile e pochi politici andiamo avanti Capaccio assedio ad Alfieri è un pericolo enorme la coalizione di Vosa si allarga con esponenti della sinistra questa città non è la buonuscita dei mestieranti e poi il progetto la macro regione del sud per modernizzare il paese partita da Padula la campagna referendaria per la macro regione del sud è stato scelto un luogo simbolo per la sua storia e il suo patrimonio artistico culturale per spiegare ai cittadini quanto secondo i promotori sia importante favorire prevalentemente sotto l'aspetto amministrativo ma non solo l'accorpamento delle regioni meridionali con un'autonomia particolare ad organizzare l'iniziativa la macro regione del sud per unire e per crescere il comitato provinciale guidato dalla presidente onoraria Eva Longo e dal coordinatore Massimo Petrosino per l'occasione è tornato nel salernitano l'ex governatore Stefano Caldoro parte quindi da Padula la campagna referendaria Caldoro uniti siamo più forti come al nord chiudiamo questa pagina andiamo avanti restiamo sul mattino ma andiamo sulle pagine del mattino della provincia di Salerno in particolare vediamo quali sono le notizie per la Piana del Sele per il Cilento i Picentini e il Vallo di Diano in apertura andiamo a Casalvelino sequestrata la villa del marito del sindaco è abusiva 6 denunce casa rurale trasformata in abitazione nel cuore del parco la Pisapia la struttura è così come l'abbiamo acquistata abusivismo edilizio nel parco del Cilento scattano i sigili per la villa in costruzione della famiglia del sindaco Silvia a Pisapia Blitz dei Carabinieri indaga la procura mancano progetti tecnico e nulla osta scalpore per il caso in tutto il Cilento andiamo a Centola Palinuro scarica reflui all'arco naturale sigilli al maxi villaggio turistico a Battipaglia invece centropagina di Sinnesco Bomba campetti e scuole per ospitare gli sfollati riunione ieri mattina in prefettura a Salerno per definire il piano di viabilità che verrà adottato durante le operazioni di disinnesco dell'ordigno bellico ritrovato in località Spineta le manovre previste il 9 e il 16 giugno il 9 o il 16 giugno scusate la zona off limits nel raggio di 1600 metri individuati gli edifici per i 40.000 evacuati andiamo avanti di taglio basso avvocature il tar boccia lullo restituisca i soldi al comune poi eboli in viaggio con l'ascis arrestati tre spacciatori per quanto riguarda invece le notizie di spalla tragedia in autostrada donna operata e fuori pericolo e fuori pericolo la donna di 43 anni rimasta gravemente ferita nello scontro frontale sulla A2 del Mediterraneo dieci giorni fa tra Padula e Sala Consilina i medici hanno sciolto la prognosi chiudiamo questa pagina chiudiamo le pagine del mattino andiamo ora invece sulle cronache vediamo quali sono i principali argomenti partendo dalla cronaca proprio dall'indagine della DDA che ha condotto che ha portato a 37 arresti vediamo scacco ai signori della droga 37 arresti questo è il titolo sulla pagina di Le Cronache ad essere rifornite le piazze dei Picentini della Piana del Sele di Cava dei Tireni fino a Lanciano in provincia di Chieti un giro d'affari di migliaia di euro nella sola piazza di Ponte Cagnano era di circa 60 mila euro un cartello tra gruppi criminali storicamente contrapposti per il controllo del traffico dello spaccio in provincia un gruppo finito nel centro delle indagini nel 2017 nell'ottobre di quell'anno uno degli indagati fu sorpreso con 52 mila euro in contanti in un'altra circostanza uno degli indagati sentendosi braccato dalla polizia aveva cercato di disfarsi di un ingente quantitativo di droga di taglio basso la curiosità Francesco De Piscopo cittadino onorario di Torraca la cerimonia si è svolta nel castello baronale Palamol il professore salernitano docente di letteratura italiana ha incantato i presenti chiudiamo questa pagina sulle cronache ancora parliamo della politica vediamo quali sono i possibili candidati per le cronache in questo caso non si dà la certezza assoluta della candidatura di Aurelio Tommasetti con la Lega l'attuale rettore dell'università di Salerno vediamo il titolo 9 salernitani in corsa per l'Europa 5 stelle dubbi su 2 candidate la pattuglia salernitana conta anche ex ed attuale rettore Pasquino e Tommasetti movimento nel mirino di alcuni attivisti sono finite Michela Rescigno e Alessandra Petrosino sospetto boom di preferenze dovrebbero essere Ugo Tozzi Anna Petrone Antonio Ilardi Alessandra senatore Lucia Vuolo e ben 4 in corsa del Movimento 5 stelle questa è la volta pattuglia di Salernitani in corsa per Bruxelles a cui si aggiunge l'ex rettore Raimondo Pasquino che è stato anche commissario del CSTP l'azienda di trasporti pubblici salernitana e l'attuale rettore Aurelio Tommasetti candidato con la Lega di Matteo Salvini Fratelli d'Italia appunta sul suo portavoce Ugo Tozzi già vice sindaco di Battipaglia Antonio Ilardi ex AD dello scale aeroportuale di Ponte Cagnano Faiano il nome salernitano della lista di Silvio Berlusconi e ancora nel PD c'è Anna Petrone unica salernitana Demme in corsa per Bruxelles dopo l'esclusione di Simone Valiante Angelica Saggese dovrebbe essere anche sostenuta dai De Lucchiani in attesa dell'ufficialità di Aurelio Tommasetti nella Lega c'è la salernitana Lucia Vuolo le ultime trattative interne avrebbero portato all'esclusione invece di Lettieri Junior che si era ipotizzato potesse essere anche lui candidato andiamo avanti a centropagine i socialisti puntano sul russo più Europa su Alessandra senatore in quota Psicci sarà la figlia dell'ex consigliere regionale Peppe il partito dell'abbonino schiera la presidente del consiglio di Pellezzano e poi verso il voto ecco anche la lista Europa Verde sarà capeggiata da Eliana Baldo avvocato di parte civile del processo sull'inquinamento ambientale causato dall'ILVA chiudiamo questa pagina dedicata alle elezioni europee andiamo sulla pagina dei fatti del giorno si parla degli incidenti stradali che hanno portato in pochi giorni alla morte di due giovani andiamo a vedere il titolo di apertura una strada bagnata di sangue muore sbalzato dall'auto perde la vita il 17enne Mario Landi ci sono anche cinque feriti tra cui due in gravi condizioni si indaga sui motivi dell'incidente la forte velocità o la strada bagnata le possibili cause non sarebbero coinvolte altre automobili il sinistro sulla corsia sud del raccordo Salerno Avellino pochi chilometri dopo l'uscita di Baronissi sud e poi il fatto tifoso Granate figlio unico appassionato di kickboxing il papà Giovanni lavora all'ospedale Fucilito di Sansevedino ancora la cronaca la morte di Rosa Maiellaro il dolore del sindaco Morra la donna aveva assistito al tragico incidente a morire domenica sera sul raccordo è stata anche una donna una sessantenne di Cologna frazione di Pellezzano Rosa Maiellaro che ha avuto avvertito un malore proprio dopo aver assistito al drammatico incidente spirando sul colpo la donna ha sentito il rumore dello schianto vivendo in via Stella proprio sulla strada dove è stato sbalzato uno dei giovanissimi che ora lotta per sopravvivere chiudiamo questa pagina andiamo infine sulle pagine della provincia di Salerno sulla parte più a sud della provincia di Salerno vediamo che in apertura andiamo a Polla si parla ancora dell'ospedale di Polla e della necessità di richieste insomma di richiesta di personale medico vediamo l'ospedale a curto di medici allarme della CGL del comitato curo l'SOS per pediatria nido ortopedia traumatologia e medicina generale i responsabili del sindacato del comitato segnalano da tempo le carenze di personale mutuateli da altri presidi il punto nascita della CGL in funzione pubblica il comitato curo denunciano ancora una volta la grave carenza di personale medico nel presidio ospedaliero pollese andiamo a Casalvelino di taglio alto un villino al posto del fabbricato rurale scatta il sequestro l'operazione dei carabinieri in località Cermoleo ad Acquavella nel parco nazionale 6 persone deferite all'autorità giudiziaria di taglio basso infine alta velocità e treni storici per e da Cilento e Golfo di Policastro piano ad hoc il programma dell'accordo tra la regione e ferrovie dello Stato intende favorire la stagione turistica ormai alle porte un programma biennale finanziato dalla regione Campania che parte dalle prossime stagioni estive che consentirà così agli operatori turistici di attivarsi con iniziative di più ampio respiro per il marketing territoriale e con questa pagina chiudiamo la nostra rassegna stampa io vi ricordo come sempre l'appuntamento con il nostro TG alle ore 13.45 grazie per averci seguito auguro a tutti una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti